Buongiorno, buongiorno e benvenuti sul circuito di Mandalika. Siamo in diretta per il Gran Premio dell'Indonesia, uno dei più esotici dell'intera stagione. La regia ci porta sulla griglia di partenza, dove i piloti stanno cercando di mantenere la concentrazione prima dell'inizio della gara. Il clima è sereno e le temperature non eccessive, ma l'usura degli pneumatici sarà un fattore molto importante nella gara di oggi. Proprio per questo molti piloti hanno montato gomme medie sia all'anteriore che al posteriore. Giro di allineamento appena concluso tra una manciata di secondi. I semafori si spegneranno e inizierà il Gran Premio dell'Indonesia. Prima dentro, gas a martello e andiamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!